Radio Radicale, siamo col Presidente della Commissione Esteri della Camera, Piero Fassino, del Partito Democratico, per parlare della guerra russa-Ucraina a un mese dall'inizio. Allora, noi si è parlato tanto delle ambizioni di Putin sull'Ucraina, a un mese di distanza il blitz che secondo i piani russi doveva durare al massimo tre giorni è ancora praticamente all'inizio. Allora, Biden è in Europa, allora volevo chiederle che cosa sta succedendo e soprattutto se vede un Putin in grande difficoltà, nonostante il colpo di coda di ieri con la richiesta di far pagare il gas in rubli. Mi pare che a un mese esatto dall'inizio della guerra risulti evidente come molte delle scommesse che ha fatto Putin sono state perse. Aveva scommesso su una guerra lampo e la guerra lampo non c'è. E non c'è neanche una prevalenza sul terreno. Per ora la prevalenza è nei cieli, ma sul terreno l'esercito russo non riesce a sfondare, non si muove da dove è arrivato. La resistenza ucraina è molto tenace. Aveva scommesso su una debole reazione americana ancora magari, un'America ancora magari sotto schiaffo afgano e invece la reazione americana è stata molto determinata. Aveva scommesso su una divaricazione tra europei e americani, non c'è stata. O su divaricazioni tra europei, non c'è stata. Aveva scommesso sul fatto che il resto del mondo però non sarebbe stato poi così ostile. E invece all'Assemblea delle Nazioni Unite la risoluzione di condanna dell'invasione è stata votata dal 91% dei paesi membri dell'Assemblea. Soprattutto aveva scommesso sul fatto che ci potesse essere in Ucraina un consenso da parte della popolazione russofona. Si è sbagliato su un punto. I russofoni in Ucraina sono tanti, ma i russofili sono pochi. Questo è il punto su cui davvero si è sbagliato. E lo dimostra la resistenza molto tenace degli ucraini, di tutti gli ucraini. Perché Mario Pol è nella zona russofona. Eppure, come si vede, resiste nonostante l'assedio brutale e violento cui è sottoposto. Quindi io penso che davvero Putin sia in una grande difficoltà. E questo spiega perché c'è stato nelle ultime 48 ore, nell'ultime 72 ore, un incremento molto forte delle operazioni militari, soprattutto un aumento dei bombardamenti, del lancio dei missili. Perché Putin a questo punto pensa che l'unica sua via d'uscita sia una vittoria militare e cerca di affrettarla. La resistenza ucraina per adesso non gliel'ha consentito e noi abbiamo tutto il dovere, e questo è l'oggetto al centro delle riunioni del G7, dell'Unione Europea e della Nato che sono in corso oggi e domani a Bruxelles, abbiamo il dovere di aiutare gli ucraini a resistere. Perché resistere vuol dire far fallire il disegno di Putin e soprattutto in quanto fallisca il disegno di una conquista militare dell'Ucraina, si può riaprire uno spazio per un negoziato. Un spazio per un negoziato si riapre a sola condizione, che l'Ucraina resista, di fronte al tentativo di Putin di andare a una soluzione militare. Lei vede compatto anche il fronte interno del nostro paese. Allora ci sono state delle minacce all'Italia, delle minacce al ministro della difesa Guerini, anche per la vicenda del 2020, di cui noi apprendiamo dei retroscena giorno dopo giorno. Però mi sembra che, come si può dire, in un tempo di guerra si dice il fronte interno... Il fronte interno tiene bene, lo si è visto in Parlamento. Segnalo che la risoluzione da me preparata, che ha dato l'indirizzo al Governo per ciò che riguarda gli aiuti, è stata approvata dall'Aula con 516 voti su 516 votanti. I decreti attuativi di quell'indirizzo che hanno dato sostanza agli aiuti umanitari, economici, alle sanzioni, agli aiuti militari sono stati approvati, mi pare, con 20 voti contrari, quindi la stragrande maggioranza dell'Aula. Oggi abbiamo incontrato la Commissione Esteri Ucraina, con cui abbiamo un rapporto fin dall'inizio della guerra, e tutte le forze politiche presenti in Commissione hanno ribadito il pieno sostegno all'Ucraina. Un sostegno che è stato ribadito anche questa mattina quando abbiamo incontrato, sempre in Commissione, l'ambasciatore ucraino in Italia. Ribadito ieri nell'incontro che la Commissione ha avuto con l'ambasciatore italiano in Ucraina, l'ambasciatore Zazzo, che sta facendo un lavoro eccellente in condizioni difficilissime. Direi che il fronte interno tiene. Non saranno le minacce a scalfirlo. Vuole dire qualcosa? Prevedete le difficoltà sul Decreto 16, quello sull'Ucraina, che prevede anche l'invio delle armi. Allora, pensa che su questo potrebbero esserci dei problemi. Tra l'altro, ieri c'è stato il voto sulle risoluzioni sul Consiglio europeo, e poi la sera stessa c'è stata una riunione del Movimento 5 Stelle, dove è stato stabilito di non voler aumentare la spesa militare. Allora, volevo sapere, insomma, se pensa che potrebbero sorgere dei problemi, o siamo di fronte a dei tatticismi. Io penso che sono due temi che vanno tenuti separati. Perché l'incremento delle spese militari per arrivare alla quota del 2% del PIL non ha a che fare con gli aiuti all'Ucraina. Gli aiuti all'Ucraina sono stati decisi sulla vesa di un atto di indirizzo approvato dal Parlamento, tradotto in decreti che il Parlamento ha assunto, e il Governo ha il mandato per assumere tutte le iniziative che servono a sostenere l'Ucraina, sul piano umanitario, economico, sanzioni e militari. La questione dell'incremento delle spese sul bilancio della difesa è connesso all'apertura della discussione che si è avuta in questi giorni in Europa sul sistema di sicurezza europeo. È evidente che se vuoi costruire un sistema di sicurezza europeo, c'è da mettere in campo gli strumenti operativi, ma anche le risorse finanziarie necessarie. Perché oggi la sicurezza europea è sostenuta sostanzialmente dalla NATO, lo ricordo a tutti quelli che guardano la NATO sempre con diffidenza, e l'80% della spesa della NATO è sostenuta dagli Stati Uniti. Se si vuole costruire un sistema di sicurezza europeo complementare alla NATO, ma con anche un grado di sua autonomia operativa, logistica, organizzativa, è evidente che saranno necessarie delle risorse adeguate. E queste risorse adeguate significa che tutti i Paesi europei che convengono sulla costruzione di un sistema di sicurezza europea dovranno conferire quello che è necessario. È in questo tipo di schema che sta il problema dell'incremento delle risorse per la difesa sul nostro bilancio. Ma ripeto, questa è una discussione tutta da fare, che naturalmente nella quale ogni forza politica si esprimerà, ma che non ha a che vedere con gli aiuti all'Ucraina. Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio il Presidente della Commissione Esteri della Camera, Piero Fassino del Partito Democratico, con il quale torneremo più frequentemente a sentirci nei prossimi giorni. Noi stiamo seguendo la vicenda Ucraina giorno per giorno. Ripeto, tra ieri e oggi abbiamo dedicato attenzione al nostro ambasciatore in Ucraina, all'ambasciatore italiano in Ucraina, all'ambasciatore ucraino in Italia, alla Commissione Esteri. Ieri, nella giornata di ieri, ho incontrato anche l'ambasciatore della Moldavia. Nelle prossime settimane avremo anche l'audizione in commissione dell'ambasciatore Moldavo e l'incontro con la Commissione Esteri della Moldavia. Siamo in contatto con gli altri paesi più direttamente investiti da questa crisi, come la Finlandia. La prossima settimana ci sarà qui il Ministro degli Affari Europei della Finlandia. Altro paese minacciato. Stiamo in contatto con i polacchi per avere lo stesso tipo di confronto e di collaborazione. con i paesi baltici abbiamo avviato già nelle scorse settimane relazioni, con la Presidente della Commissione Esteri rumena mi sono sentito nei giorni scorsi. Stiamo lavorando a seguire questa vicenda e naturalmente in un contatto costante e continuo sia con le nostre ambasciate nei diversi paesi, con le ambasciate di questi paesi qui e con le commissioni esteri nei parlamenti di questi paesi. Grazie per il lavoro che sta svolgendo, ringrazio il Presidente della Commissione Esteri della Camera, Piero Fassino del Partito Democratico.